Sequestrati i cellulari del direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. A più di un mese dall'arresto di Sabatino Trotta, Domenico Mattucci e Luigia Dolce, IPM, Luca Sciarretta e Anna Benigni vogliono far luce sul ruolo del numero uno dell'azienda sanitaria nell'inchiesta per l'appalto da 11 milioni di euro affidato alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Le confessioni di Mattucci e Dolce, rispettivamente ex presidente ed ex coordinatrice della cooperativa, combaciano. I due hanno riferito che Trotta e Ciamponi avrebbero parlato dell'accordo corruttivo anche tramite WhatsApp e ora dalla procura emergono ulteriori dettagli sulla presunta corruzione di Ciamponi, tra cui l'ammontare della cifra consegnata. 8 mila euro che Mattucci avrebbe consegnato a Trotta, il quale a sua volta avrebbe dato a Ciamponi per acquistare una Fiat 500. Lo scambio di denaro sarebbe avvenuto il 26 marzo, 24 giorni dopo la firma del contratto per la gestione di servizi extra ospedalieri. Ciamponi ha acquistato l'automobile da un concessionario di spoltore con un assegno da lui firmato da 2.400 euro. Secondo gli investigatori però il direttore generale e il venditore si sarebbero accordati per un importo superiore. Il 7 aprile, il giorno degli arresti, quella stessa notte Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ed esponente di Fratelli d'Italia, si è suicidato nel carcere di Vasto. Quando però Trotta era ancora vivo dietro le sbarre, Ciamponi sarebbe tornato dal concessionario chiedendo la fattura dell'acquisto. Mi chiese se sapevo cosa fosse successo, ha detto il venditore alla guardia di finanza raccontando l'incontro con il direttore della ASL. Capire con quanti e quali soldi l'auto è stata acquistata è quindi di primaria importanza per far luce sulla vicenda che sta facendo tremare la sanità e la politica abruzzese. Trotta non può più rispondere alle domande dei PM, ma dal Trojan e dalla perizia informatica sul suo smartphone starebbero emergendo ulteriori dettagli sulla trattativa. Saranno ora i cellulari di Ciamponi a dover confermare o smentire le confessioni di Mattucci e Dolce, i quali sono attualmente agli arresti domiciliari. L'ASL non si era espressa sull'inchiesta fino a quando Mattucci in procura nominò Ciamponi. A quel punto il direttore generale di Ramon comunicato col quale negava ogni suo coinvolgimento e rivendicava la legittimità dell'appalto. Appalto annullato dalla stessa ASL per grave illecido professionale quattro giorni dopo quel primo comunicato.